Ci piace questo Bari e non parliamo solo della classifica, ma anche perché quest'anno la squadra è entrata più nei cuori dei tifosi. Ci spieghiamo meglio. Nella passata stagione, sia per dichiarazioni a volte non corrispondenti alla realtà dei fatti, sia per risultanze a volte polemiche, la squadra bianco-rossa non è entrata nelle simpatie della gente. In questa stagione sembra che le cose siano cambiate. Intanto diamo i meriti a Mignani, sempre concentrato nei postpartita, a parlare dei meriti e dei demeriti della propria squadra, senza mai parlare degli avversari, dei terreni di gioco, oppure della pressione, alibi che francamente hanno un po' stancato. Merito anche del direttore sportivo, che oltre ad aver costruito una squadra competitiva, ha il merito di uscire allo scoperto quando le cose non vanno bene, dimostrando di essere un vero e proprio punto di riferimento. E infine, meriti anche della squadra. Vi ricordate quando in passato si pronunciava spesso, un po' troppo, la frase «testa bassa e pedalare»? Ebbene, quest'anno lo si sta facendo con i fatti, con calciatori che davvero sposano appieno la cultura del lavoro. Insomma, sembra che il club bianco-rosso abbia imparato dal passato. La speranza è che questa amalgama possa funzionare fino alla fine del campionato. Ma ciò che ci sentiamo di dire in questo momento è che, in numeri a parte, il Bari quest'anno piace di più.